In questo momento mi trovo a Tokyo. Fra qualche giorno mi trasferirò a Kyoto e poi passerò una notte a Tokushima, nel nord-est dell'isola di Shikoku, la più piccola delle quattro isole principali del Giappone, dove ci sono quelle spirali nell'acqua, no? Quei vortici un po' particolari. Da Tokushima, il 21 settembre, mi incamminerò lungo il celebre pellegrinaggio degli 88 templi di Shikoku, lo Shikoku Henro. Si tratta di un percorso di circa 1200 chilometri e 10 chilometri di dislivello. C'è qualche montagna, soprattutto all'inizio, ma è chiaro che poi queste cose dipendano un po' da quante deviazioni uno decide di fare. Vuoi per andare a fare un tuffo in mare, per intervistare qualcuno di eccezionale, o per visitare un tempio che non è legato nello specifico al percorso, ma che vale davvero la pena di vedere. Non so bene quanto sarò in grado di fare live o caricare video con costanza mentre sarò lì. Dopotutto avrò tanto da camminare tutti i giorni, più o meno 30 chilometri, io conto di farcela in 45 giorni, più 5 di registrazioni, tuffi in mare, tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima. Però, però, mi porterò tutta l'attrezzatura, ancora una volta, sulla schiena per registrare un bel documentario da caricare poi, con qualche mese di editing mi aspetto nel mezzo, sul mio canale in inglese Actually, che trovate qui in descrizione. Oggi non sono qui per dirvi tutto quello che c'è da sapere sul pellegrinaggio, sullo Shikoku-henro. Lo farò a tempo debito e un pezzettino alla volta, per intenderci, magari non in contemporanea, ma delle cose naturalmente usciranno anche qui, anche qui su spazi attorcigliati, e quindi seguitemi per sapere come si evolverà sta faccenda. Che poi c'è una marea di roba interessantissima da raccontare. Banalmente, negli ultimi mesi, ho passato tantissimo tempo a leggere ciò che è stato scritto su e da il fondatore del buddismo Shingon, appunto, Kukai Kobodaishi. Questo monaco vissuto nell'Ottocento che si dice, nell'Ottocento dopo Cristo, e non nel 1800 che si dice, ancora saggiri dopo aver raggiunto l'illuminazione in vita come una creatura con le unghie lunghe e i capelli lunghi per l'isola di Shikoku regalando miracoli a chi lo incontra, o tira le cuoia facendo il pellegrinaggio. Ma ci arriveremo. È uno di quei pasti così grandi che è bene studiarsi un po' da che parte cominciare per non arrivare troppo sazi prima del dolce. Quindi riavvolgiamo un po' il nastro e datemi occasione di raccontarvi quello che ho fatto fra giugno e luglio. E di due cose in particolare voglio parlarvi. Poi ce ne sarebbero altre, come il talk che ho avuto la fortuna di portare alla Royal Institution a Londra settimana scorsa, ma quello apparirà su YouTube tra due mesi e ve ne parlerò a tempo debito quando poi uscirà la registrazione completa. No, di due cose voglio parlarvi in particolare. Il mio viaggio in Germania al Lindau Nobel Meeting, un grande ritorno per un grande paese che è stato importantissimo nella mia vita, e il mio viaggio in Islanda. Nel primo ho avuto appunto la possibilità di partecipare a questa iniziativa che si chiama Lindau Nobel Meeting, che si svolge naturalmente sull'isola di Nobel, no, di Lindau, dove vengono convocati a rotazione per la fisica, la medicina, l'economia, o un po' tutti in miscellaneo, i premi Nobel in vita, si prova anche con quelli deceduti, ma non con grande successo, di una disciplina. C'era una quarantina di premi Nobel per la fisica e pressa poco 600 giovani scienziati, sebbene io abbia chiarito loro che in questo momento faccio solo comunicazione della scienza, ma hanno voluto dentro comunque, stavo quasi per far cadere un oggetto importantissimo per la fine del video, ma ci torniamo importantissimo, solo per fare una scenetta, ma ci torniamo. E per una settimana, dicevo, su quest'isola, in questo posto veramente molto bello e molto bavarese, no, perché al confine tra la Baviera e la Baden-Württemberg, in cui si va poi l'ultimo giorno, cofinanziato dai due lander, anche lì è tutta una storia, ci sono conferenze, workshop restretti, colazioni insieme. si sta 24 ore su 24 insieme con questi personaggi e capirete bene che per me era un'occasione d'oro per strappare un paio di interviste. E quindi ho intervistato Takaki Kajita, che era direttore di Super Kamiokande quando si è scoperta l'oscillazione dei neutrini, no? Quell'evento che ci suggerisce che i neutrini abbiano una massa, seppur molto piccola, perché solo se hanno una massa possono trasformarsi da neutrini di un tipo a neutrini di un altro. Sapete che ce ne sono tre, il neutrino elettronico, muonico e tauonico, e questi si possono trasformare, dicevo, l'uno nell'altro per l'appunto oscillare. Questo è possibile solo se hanno una massa e quindi l'osservazione dell'oscillazione ci ha fatto capire che i neutrini hanno una massa. Quindi ho quell'intervista sull'Artisk e la ficcherò in un video sull'oscillazione dei neutrini appena torno in Italia e Sol Perlmutter, premio Nobel per la fisica per aver diretto uno degli esperimenti che hanno osservato, quelle robe con le supernove, no? L'espansione accelerata dell'universo. Questo video, questa intervista, va a combinarsi a ciò che ho fatto in Islanda. Ho visitato luoghi rilevanti per questo progetto di cui adesso vi parlerò, e ho intervistato due accademici che si occupano di mitologia norrena. Facendo dialogare la mitologia norrena con la fisica teorica, con la cosmologia, ho cicciato fuori Cosmology in Colors, un episodio autoconclusivo, ma idealmente pilota di una serie che in futuro, magari a un certo punto, e se siete dei produttori fatevi avanti, mi piacerebbe realizzare completamente. Sono sette episodi, ho un bel trattamento nell'hard disk, se volete, che è appena apparsa sul mio canale in inglese, su Actually, ancora una volta, trovate il link in descrizione. Cosmology in Colors nasce da questa sorta di frustrazione che si prova magari ponendosi di fronte a una lavagna piena di equazioni che parlano della cosa più straordinaria di sempre, la nascita dell'universo, ma che fanno fatica a raggiungerci in qualche senso, e si chiede, imparando da chi i miti della creazione ne costruisce da sempre, se sia possibile tenere insieme scientificità, oggettività, modelli quantitativi e discorsi dotati di senso, meaningful in inglese, che forse trasmette un significato che faccio un po' fatica a replicare, che sembra un po' diverso dall'avere senso, no? Qualcosina di più. Insomma, se sia possibile raggiungere la testa, e fatemi essere un po' così, un po' smielato, il cuore delle persone allo stesso tempo, che poi è la grande domanda dei comunicatori della scienza, per vedere se ho cavato un ragno dal buco, se in qualche modo si può tirare fuori qualcosa, o anche solo per imparare la cosmologia da un premio Nobel e il mito norreno della creazione da altri accademici straordinari, in questo video ce n'è uno, poi c'è un altro che pubblicherò, a parte andate a vedervi Cosmology in Colors. Nel frattempo questo bel video è stato anche il mio progetto finale del Master a Londra, che ho chiuso con grande gioia e appunto poi dando un saluto alla città con questo talk alla Royal Institution. Per ricapitolare, me ne sto due mesi e mezzo in Giappone a fare sto pellegrinaggio degli 88 templi di Shikoku. Vi racconterò tutto quello che c'è da raccontare qui su Instagram e poi su Actually con un documentario fatto con tutti i grismi. Lì carico quella roba lì. Tornerò in Italia, io mi immagino il 25-26 novembre, ma vedremo, potrebbe essere qualche giorno, però qualche giorno no. Vediamo, vediamo. Tra giugno e luglio sono stato all'Indao, dove ho intervistato Perlmutter, premio Nobel per la fisica e Kajita, che entrerà in un altro fisico, premio in un altro video, premio Nobel a sua volta, rispettivamente per l'espansione dell'universo e espansione accelerata dell'universo e l'oscillazione dei neutrini, in entrambi i casi misure sperimentali. Sono stato in Islanda, tra l'altro, due volte per intervistare degli accademici che si occupano di mito norreno e visitare i luoghi della vita, ad esempio, di Snorri, l'uomo che ha un po' messo insieme il mito norreno in un'opera completa per vedere cosa ho combinato. Andate su Actually e tra due mesi esce il talk alla Royal Institution. Fatemi sapere che ne pensate di tutta sta roba. È un video che non ho scritto, magari un po' confuso, ma avevo voglia di raccontarvi tutta questa roba, avevo voglia di farvi sapere cosa ho fatto e cosa sto facendo e anche di riprendere un po' di dimestichezza con la telecamera. Non solo per questo viaggio, appunto, mi piacerebbe vloggare, come si dice oggi, ma anche per quello che arriverà dopo, da novembre in poi, quando mi piacerebbe trovare un minimo di stabilità e lavorare su tutte le cose di divulgazione, di comunicazione della scienza che ho lasciato indietro, che mi frullano nella testa e mi intasano il taccuino. Noi ci vediamo quando riesco, perché alla fine dipende tutto da me, vorrei farlo di più, ma mi mangio la mano. Nel frattempo ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti. Ah sì, la scenetta finale. Qua l'idea era quella di mettermi una bella maschera da Tengu e sparire così, però me la metto, ve la faccio vedere. È bellissima, l'ho presa ad Asakusa, il quartiere storico di Tokyo dove c'è il Senso-ji, uno dei templi più antichi, importanti, un più antico tempio buddista della città, un tempio importantissimo dove si fanno varie celebrazioni e c'è una bella via dei negozi vecchiotti perché poi a un certo punto per un incendio era stato spostato lì il quartiere del divertime però insomma ci arriveremo a tempo debito. Per adesso ci becchiamo qui, su YouTube, su Instagram e su Actually. Ciao!